Salve a tutti e benvenuti in questo sesto episodio di Halo Combat Evolved, registrato su PC in 4K a 60fps. Oggi tocca la missione 343 Guilty Spark, che diede anche il nome, tra l'altro, questo misterioso 343 Guilty Spark, anche a 343 Industries, lo studio che si è occupato di Halo dal 2010-11 in poi. Selezioniamola immediatamente e partiamo con la missione. Vi invito a vedere il finale dello scorso episodio, che è esattamente l'antefatto di questa stessa missione. Cortana ci diceva di andare a fermare il Capitano Keys perché quello che pensava fosse un deposito di armi dai Covenant, in realtà non lo era. Dice che i Covenant hanno scoperto qualcosa di terribile nelle profondità di Halo, qualcosa che ora temono. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Esatto, striscia in una palude per incontrare l'unico nemico che i Covenant temono. Questa è anche una boccata d'aria fresca per quanto riguarda la lunghezza dei video perché è un po' più corta come missione, a meno che non ci si perda nei meandri della palude. L'ultima trasmissione della nave del Capitano proveniva da questa zona oltre 12 ore fa. Da allora non siamo più stati in grado di metterci in contatto con il Capitano o con la sua squadra. Quando localizzate il Capitano chiamatemi per radio che vengo a prenderti. Ed eccoci qui nel livello. Tra l'altro ci sarebbe anche un easter egg, una sorta di obiettivo, se si riuscisse a salire sopra il Pelican, saltando di sopra proprio. Qui abbiamo degli segnalini e qualcuno che sta parlando. Abbiamo sentito che il trasporto del Capitano Chies, guardate anche qua tutto il loro equipaggiamento, è stato attaccato da degli alieni che non sono Covenant, ce l'hanno detto loro, ma quindi cosa sono esattamente? E perché pure i Covenant fuggono da loro? Qui abbiamo anche una nave Covenant arenata. Devo ricaricarmi lo scudo, ma non me l'hanno consentito. Ok, faccio una corsetta lì indietro a riprendere quei kit di pronto soccorso. L'altronde li hanno messi lì per un motivo, no? Allora prendiamoceli. Nel frattempo questa ambientazione è un'ambientazione abbastanza unica in Halo. Questa palude, prendo anche delle munizioni già che ci sono. Questa palude appunto molto stile, molto nebbiosa. Non si vede praticamente nulla. Questa infatti è una delle missioni che segna una svolta quasi horror in questo videogioco. Sentite anche la musica, gli effetti sonori. Richiamano quelle atmosfere horror. Quindi dobbiamo salire qui e proseguire lungo questo tronco. Ecco lì là i nostri Marines. Non si vede niente. I Covenants si mimetizzano anche tra le sterpaglie qui, le boscaglie. Uccidiamo tutti. Via tutti. C'è ancora un nemico vivo. Ho più di uno. Ok. Eliminati tutti. Ora possiamo penetrare in questa misteriosa struttura di Halo. Che silenzio. L'ascensore che torna su da solo. E noi scendiamo. Guardate, li sono tutti rintanati lì dentro i Covenants. C'è ancora qualcuno in vita? Sì, tu. Mi dispiace, povero Grunt. Guardate che ambientazione molto più ostile del solito. Tutta grigia. Spoglia. Con ponti di luce distrutti che non si attivano più. Vabbè, quel Grunt non può essere colpito. Qui comunque l'unica scelta che abbiamo è proprio scendere. Guardate anche quegli strani simboli. Questo è un luogo completamente diverso da qualsiasi altro che abbiamo esplorato finora. Qui non possiamo passare rosso. Vediamo se abbiamo anche delle munizioni o qualcosa di nascosto. Qui abbiamo un kit. Ecco fatto. Di qua non possiamo andare. La via è sempre solo una, eh. Però ci si può perdere facilmente in questo posto. Dove è tutto uguale a tutto essenzialmente. Guarda quello che provava a tirarmi di MP. I Jaka sono molto pericolosi come nemici, eh. Guardate qua, c'è anche... Una sorta di sangue verde che cade... Dall'alto. C'è anche il rumore proprio da... Quello che cade. Proseguiamo. Dei Covenant brutalmente massacrati. Guardate quanto sangue. Qui si erano barricati per poter resistere ma non ce l'hanno fatta. Qui abbiamo munizioni di pistole ad aghi. Mentre di qua non si può andare. L'unica strada possibile, di nuovo, è solo una. Per fortuna non le ha atto. Indietro, indietro! Non mi trasformerai in una di quelle cose! Mi faccio saltare il cervello! Sta lontano da me! Aaaaaah! Aaaaaah! Non mi toccate, mostri! Non voglio diventare come voi! Nascondetevi presto! Quei mostri sono dappera tutto! Fingetevi morti! Come ho fatto io, mi sono vinto morto! Prendono solo i viti! Oddio! Mi sento ancora qui, mostri! Prendiamo fino alle sue sofferenze. Era forse impazzito? O forse stavo dicendo la verità? Qui abbiamo Covenant morti! Massacrati, tra l'altro, anche qui tantissimi schizzi di sangue. Proseguiamo. Di nuovo si può andare solo sopra. I simboli là sono rossi. O noi non possiamo andare né là? Là? Forse sì. Non vedo bene se è verde o rosso. Dovrebbe essere verde quella porta. Qui la porta è stata fatta saltare, evidentemente. Non è stata aperta normalmente. Qui dentro c'era qualcosa che non doveva uscire. Altri marine brutalmente massacrati. Non vedo bene se è vero. Non vedo bene se è vero. perché dobbiamo sempre sentire le solite menate vada come parli queste menate sono la vostra storia e dovrebbero ricordare a voi Grunt cosa stiamo difendendo ma se i Covenant vogliono eliminare questa parte della mia storia per me va bene sì, meglio quella che noi chiediglielo gentilmente quando li rivedi, mi senti vedrai che ti accontentano subito l'area di atterraggio sembra libero, provo a scendere vai, vai, vai vai vicino, Jenkins Mendoza, presto aspetta qui il capitano e la sua squadra poi dati una mossa signore ok, muoviamoci piuttosto strano, no? guardi qui qualcosa gli ha squarciato il torace poi è tutto sbudellato cosa sono queste? tracce di plasma? non lo so forse è stato un incidente un colpo partito per sbaglio cosa c'è, sergente? sembra una battuglia dei Covenant unità di elite tutti caduti in battaglia niente male era un tuo amico? appena conosciuto ok, apriamo questa porta ci provo io, signore ma sembra che i Covenant l'abbiano chiusa davvero bene aprila lo stesso sì, signore ho un brutto presentimento ragazzo, tu hai sempre un brutto presentimento che ho misato, sergente? mi sentite? che succede, soldato? contatto contatti dappertutto ma non sono Covenant ci fanno pezzi no! no! caporale ti ricevi passo Mendoza accidente spara ce ne sono troppi sergente confesarci i flood o flood come vogliate pronunciarli qui abbiamo munizioni a volontà di tutti i nostri marini morti o catturati portati via perché eccoli eccoli il flood guardate quanti sono sono tantissimi però per fortuna sono anche molto fragile almeno queste forme sono molto fragile le cosiddette forme infettive dei flood una di una sola di queste potrebbe contagiare un intero pianeta ma questo lo scopriremo scopriremo di più sui flood molto più avanti ma neanche tanto a dire la verità ricordate il nome di questo livello 343 guilty spark stiamo per scoprire il perché si chiami così ok ed ora possiamo andarcene dato che flood hanno aperto anche l'altra porta questa è una forma combattente come vedete sono molto più resistente delle forme infettive e fanno malissimo guardate quanti sono sono anche molto più veloci di noi prendiamo delle munizioni e andiamocene noi ora qua di trama dobbiamo fuggire non dobbiamo guardarci indietro dobbiamo fuggire o meglio guardiamoci indietro se c'è qualcuno come lui che ci ammazza altrimenti siamo fregati non possiamo lasciarci indietro troppa gente altrimenti appena ci fermiamo siamo morti vediamo dove è possibile andare qui guardate anche i covenants che combattono contro di loro ma non hanno alcuna possibilità di farcela sono troppi sono troppi ma forse con una bella granata lì abbiamo risolto parte della situazione il milì a loro non fa praticamente nessun danno è come non danni nulla come colpi noi non possiamo più tornare indietro da qua la porta si è bloccata quindi dobbiamo aprirci un'altra via là scendiamo eliminiamo i flood non devono seguirci ecco fatto lì c'è un'altra porta bloccata e corriamo via contro il flood le armi umane sono ottime le armi aliene un po' di meno almeno in questo primo capitolo vedete come vanno giù velocemente quelle armi umane si rialzano anche queste qui attenzione le forme infettive hanno la possibilità di entrare in un corpo di una forma combattente e risuscitarla noi per evitare ciò possiamo rompere il corpo o forse nel primo anno non era ancora possibile dal secondo in poi si possiamo rompere il corpo con il milì noi qui ci eravamo già stati vi ricordate la sala in cui gocciolava il sangue alieno noi siamo entrati da qua quindi usciamo da qua ecco questa è la parte del livello in cui ci si può perdere molto facilmente cercando di uscire da questo posto infame mentre si è inseguiti da queste creature che non si fermano mai vedete il milì non gli fa nulla è proprio tempo sprecato sentite anche i covenant che sparano cercano di liberarsi da questi alieni ma anche loro come noi sono impreparati a tutto questo non spararmi però stupido alieno stupido covenant ti ho salvato la vita ti ho salvato la vita solo per togliertela di persona là ci sono dei jackal anche il loro scudo non può nulla contro i flood noi dobbiamo trovare un modo per andarcene da qui e il modo è salire sfruttando questi no aspettate eh noi siamo arrivati da qui non c'è nessun'altra porta in questa stanza quindi si bisognerebbe salire da qualche ricordo almeno anche se sembra un po' basso qua infatti forse non si sale da qua da qua esatto da qua a qua per l'appunto bisognava salire ma avevo solo sbagliato il posto beccatevi questa granata jackal del cavolo ed esplodete male ed ora possiamo proseguire kit di pronto soccorso munizioni e un'arma che ci tornerà molto utile lo shotgun questo shotgun contro i flood è l'arma migliore che voi possiate prendere questa bella doppietta da lontano e da vicino tanto le forme combattenti cercheranno di colpirvi mili e per voi sarà facile abbatterli tra l'altro lo shotgun è fortissimo anche da dalla distanza bene possiamo andare le forme effettive se sono poche potete anche farvele venire addosso tanto avete gli scudi energetici quindi non subite il non subite anche di trama proprio il loro il loro controllo mentale ecco la loro sottomissione potete anche usare il mili come sto facendo io per abbatterle senza quindi sprecare i proiettili oppure farvele venire addosso di nuovo non è un problema andiamo corriamo via qui abbiamo una bella invisibilità che direi di sfruttare al massimo per correre via aia volevo correre via effettivamente io non so perché mi si è fermato ad intrattenermi con quei simpatici signori tu muori via pure tu e qua bisogna salire hop kit di pronto soccorso utilissimo e andiamocene speriamo che l'invisibilità no è scaduta lui è saltato ora siamo dall'altra parte del sala con il ponte luminoso difettoso possiamo eliminare questo flood e proseguire qui ce ne sono qui ce ne sono altri di nuovo usate lo shotgun contro di loro è efficacissimo attenti a non cadere perché non ricordo se bisogna andare giù oppure su no qui bisogna andare giù quindi potete anche cadere non è un problema quello l'ho preso al volo ok eliminiamo anche un po' di forme infettive perché iniziano ad essere tante possiamo continuare da questa parte ne arriva qualcun altro oh si mi sa che c'è qualcuno no ok non arriva e qui nulla ed eccoci arrivati in un'altra stanza eliminati tutti possiamo proseguire la si può andare volendo è verde ma possiamo andare anche qui vediamo cosa c'è c'è un vicolo cieco oppure un posto dove poter scappare stiamo in un'altra stanza qui mmm mi sa che stiamo forse tornando indietro quindi tu sei risuscitato muori immediatamente direi di provare ad andare di qua muori immediatamente muori pure tu uh intenzione invece era di qua il vicolo cieco era di qua la trappola mortale con tutti questi flood quindi è giusto andare da questa parte dire forme infettive potete addirittura ignorarle se sono poche non è per niente un problema esatto è quasi sale scendete se avete il coraggio stupidi flood ehi morto mori pure tu cerchiamo la porta puntiamola e andiamo eccola di là immaginatevi giocare questo livello da bambini io ero terrorizzato da questo livello non non avete idea anche perché ovviamente da bambino mi ero perso dentro questo posto e è stato un incubo davvero ok qua possiamo attivare il ponte effettivamente non è danneggiato guardate anche a questa distanza lo shotgun è efficace è un'arma potentissima rottissima in allo 1 se lo vedete prendetelo perché è fantastico ok ho fatto saltare in arrivo un po' di persone un po' di flood volevo dire e qui abbiamo l'ultimo ascensore per poter uscire da questo posto infernale mi stavano aspettando tutti quei fuori marine però però ora siamo preda facile dei flood eccoli che arrivano esatto noi purtroppo non abbiamo possibilità di salvarli questi moriranno contro le forme effettive a meno che siano bravi a ucciderle perché loro non hanno un'armatura come noi una sola forma effettiva può facilmente soggiogarle che vuoi tu ma quanti siete comunque anche la pistola è buona contro di loro la pistola in allo 1 è buona contro qualsiasi cosa l'abbiamo dei segnali luminosi direi di seguirli stiamo arrivando ad una sorta di struttura in mezzo alla palude guardate quanto danno fanno i flood anche perché loro possono usare sia armi umane che armi aliene vi colpiscono con tutto e vi triturano sentite chi sta cantando abbiamo degli alleati a quanto pare degli alleati non molto forti però degli alleati benvenuti io sono il guardiano dell'installazione 04 sono 343 Guilty Spark qualcuno ha liberato i flood il mio compito è impedire che fuoriescano da qui ma chiedo la vostra collaborazione venite da questa parte capo perso il suo segnale lei dov'è capo capo e abbiamo finito anche il livello 343 Guilty Spark conoscendo proprio la fine del livello 343 Guilty Spark ora lo metto in pausa perché questo è l'inizio del nuovo livello la biblioteca e forse qualcuno potrebbe avere un po' dei brividi ripensando dalla biblioteca come livello perché lo vedrete nel prossimo episodio è un livello un po' particolare è uno dei livelli più mertosi di Aulo non giriamoci intorno dai detto ciò qualche considerazione sul livello 343 Guilty Spark quello che abbiamo appena giocato come vi ho detto anche nel corso del video è un livello molto più horror rispetto a quelli precedenti e se giocato da un bambino come ero io all'epoca avrò avuto circa 7-8 anni quando giocai per la prima volta ad Aulo mi cagai sotto in una maniera allucinante ma non tanto per dei jumpscare perché come vedete non ci sono non tanto per delle scene particolarmente cruente perché non ci sono ma per l'atmosfera in sé un'atmosfera così claustrofobica questi cunicoli pieni di quegli alieni misteriosi che all'epoca non sapevo nemmeno cosa fossero lo sapevo che erano solo tantissimi e che continuavano ad inseguirti alcuni addirittura risuscitavano una volta che li ammazzavi era una cosa perfetta dal punto di vista dell'atmosfera riusciva a metterti addosso un'ansia assurda ora ovviamente con il passare del tempo sapendo già il livello essendo cresciuto non fa più quell'effetto e anche tra l'altro quando lo giocheremo in versione anniversary in versione rimasterizzata con la grafica nuova vedrete che hanno tolto molto di quell'atmosfera dark horror suspense perché hanno illuminato un casino tutti gli ambienti quindi hanno reso ovviamente molto meno paurosa la faccenda detto ciò il video finisce qui ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti da Glaciosphere è tutto al prossimo video e di iscriverti al canale di iscriverti al canale